Buongiorno ragazzi, saluto la seconda H e do il benvenuto all'interno del canale alla seconda E. Costituiremo da oggi una maxi classe, voi non vi conoscete però continueremo il programma insieme in modo da proseguire quello che abbiamo iniziato in classe e non rimanere indietro appunto con le nostre attività. Faccio riferimento per un attimo alla seconda E dove non siamo riusciti ad iniziare il lavoro pratico sulle mappe degli stati europei in aula, lo inizieremo online, vi do ora qualche indicazione di natura tecnica. Andremo a disegnare sul quaderno con ordine le mappe di tutti gli stati europei che prenderemo come riferimento. Utilizzeremo una facciata per ogni stato, quindi cercheremo di utilizzare tutto lo spazio disponibile e inseriremo sempre a mano, in maniera approssimativa ma attenta, quelle che sono le caratteristiche morfologiche principali dello stato ovvero i fiumi, le catene montuose, le pianure, le tipologie di coste. Da questo deriveremo una serie di informazioni. Non voglio da voi delle mappe estremamente precise, voglio però delle mappe personali realizzate con attenzione e soprattutto attraverso i colori. Perché proprio attraverso i colori, e lo vedremo con calma in questa lezione e nelle prossime, si potrà memorizzare meglio il contenuto e si potranno memorizzare le caratteristiche di queste mappe e di questi stati che andremo ad affrontare. Quindi utilizzeremo dei pennarelli, dei pastelli, quello che ritenete opportuno, meglio pennarelli perché hanno un tratto diciamo più deciso. Segnaleremo con molta attenzione quelli che sono i corsi dei fiumi e la presenza di sbocchi sul mare con pastello pennarello di colore blu o azzurro. Andremo a segnalare le catene montuose attraverso un pennarello pastello di colore marrone, utilizzeremo un pastello pennarello di colore verde per segnalare le pianure, e infine utilizzeremo un pennarello o un pastello di colore rosso, viola, potete utilizzare un colore caldo, arancione, per segnalare quelle che sono le città principali, quindi non solo la capitale ma anche le città che ci interesseranno. Come vedrete mi riferisco alla seconda E perché la seconda H già lo sa, io utilizzerò qui in questa situazione solo il gesso bianco che ho a disposizione, però voi nei vostri quaderni riporterete i colori che vi ho indicato in questo momento perché sicuramente sarà più efficace la realizzazione delle nostre mappe e alla fine del nostro percorso vi ritroverete una sorta di piccolo atlante realizzato da voi. Ciò che per centinaia di anni hanno fatto i cartografi a mano con tutte le approssimazioni del caso lo farete per conto vostro, lo farete nella vostra casa, lo farete affrontando tutte quelle che sono le difficoltà che possono esserci a tracciare a mano una mappa di uno stato anche grande, anche complesso dal punto di vista morfologico. Per cui io direi di iniziare subito, ovviamente per la seconda E lascerò il link del video precedente in modo che possiate recuperare le informazioni che ho lasciato l'altro ieri già alla seconda H e io direi di iniziare la lezione di oggi che sarà, ve lo anticipo subito, un completamento per quanto riguarda la geografia della Francia. Quindi, per chi l'ha già fatto, prendiamo le mappe che abbiamo disegnato nella scorsa lezione, per chi non ce l'ha, e mi riferisco alla seconda E, recuperi il video, disegni la mappa della Francia e a questo punto si può continuare con la lezione di oggi. Iniziamo, così non perdiamo tempo. Recuperiamo quindi la nostra mappa che abbiamo tracciato la scorsa lezione per approfondire alcuni aspetti che proprio deriviamo dallo studio di ciò che abbiamo prodotto la scorsa lezione online. Abbiamo detto dell'importanza dell'Oceano Atlantico, l'importanza dell'Oceano Atlantico per il clima, soprattutto della parte settentrionale della Francia. Ed ecco che l'importanza di questo fattore ricade, ovviamente, anche a livello economico. Gran parte della Francia, e faccio riferimento soprattutto, ovviamente, alle aree pianeggianti, è a una valenza importante legata all'agricoltura. L'agricoltura francese è considerata, secondo i dati, quella più produttiva dell'intera Unione Europea, soprattutto grazie alla forte meccanizzazione di questo settore. Quindi agricoltura e allevamento, soprattutto di bovini e soprattutto di bovini da latte, famosissimi i formaggi francesi esportati in tutto il mondo. Quindi la presenza di questi fiumi di cui abbiamo parlato l'altra lezione, con grandi portate particolarmente lunghi, che garantiscono una quantità di acqua continua nell'arco di tutto l'anno, e soprattutto le piogge provenienti dall'oceano, che garantiscono quindi periodi di siccità molto molto ridotti e relativi solo ad alcuni giorni, alcuni periodi dell'estate, garantiscono quindi un'agricoltura molto molto prolifica, che è uno dei principali settori, appunto, economici della Francia. Concentriamoci ora sulle coste. Rimaniamo quindi legati a quelli che sono i fattori dati dallo sbocco sull'oceano atlantico e lo sbocco sul Mediterraneo. Nella parte meridionale, abbiamo detto la scorsa lezione, c'è un clima mediterraneo secco, particolarmente caldo. In alcune zone, come la Provenza, ci sono aree umide, però diciamo che le coltivazioni rimangono simili a quelli degli stati del Mediterraneo. Quindi c'è una coltivazione di agrumi, è famosa la zona sud, particolarmente per la floricoltura e in particolare per la coltivazione della lavanda, dei fiori di lavanda. Ecco che quindi vediamo che la geografia, gli aspetti prettamente fisici della nostra mappa già ci danno delle indicazioni riguardo l'economia del paese, in particolare il settore primario, allevamento e agricoltura. La Francia però ovviamente non è un paese solamente agricolo. Grandissime sono le industrie che hanno sede, in particolare nelle grandi città. Faccio riferimento ovviamente a Parigi, che è il cuore tuttora della Francia. Parigi che ospita le sedi di numerose aziende. Pensiamo a molte aziende di cosmetici, di profumi, di alta moda. Sono tutti settori particolarmente sviluppati dell'industria francese. Ovviamente non abbiamo parlato prima di un settore molto importante, che sono i vini. sappiamo dei contrasti, spesso della gara che c'è tra i produttori di vino italiani e i produttori di vino francese, come quantità e come qualità delle esportazioni soprattutto. Quindi un settore economico molto molto florido. Ecco, una città che in particolare ha un ruolo fondamentale a livello industriale, si trova in questa zona della Francia. E io la aggiungerei alla nostra mappa. È la città di Tolosa. Tolosa è famosa per le industrie metalmeccaniche, in particolare per la produzione di automobili, ma anche per un'azienda fondamentale per l'economia francese, che è l'Airbus. L'Airbus è famosa per essere insieme alla Boeing una, diciamo, una delle maggiori, sono due le principali, industrie aereospaziali a livello planetario. Nell'industria aereospaziale di Tolosa, in particolare nell'industria dell'Airbus, è stato progettato e realizzato quel famoso velivolo, quel famoso aereo passeggeri, che è l'Airbus A380, con due piani, una capienza di circa 600 passeggeri, che è stato esportato, è stato consegnato a diverse compagnie aeree sparse in tutta la Terra. Ecco, l'industria aereospaziale di Tolosa è uno dei riferimenti, appunto, chiave dell'economia francese, e in particolare del settore secondario. Ma c'è dell'altro, l'economia francese è ricca, lo è sempre stato, soprattutto negli ultimi cento anni, ha avuto uno sviluppo molto, molto marcato, e ha avuto uno sviluppo così forte, creando anche, in certi momenti, soprattutto della storia recente, una serie di polemiche, perché sono attivi, tutt'oggi, 20 reattori nucleari, che sono distribuiti in maniera abbastanza regolare in tutto lo Stato francese, ma che sicuramente hanno creato polemiche, ovviamente, soprattutto dopo il disastro di Chernobyl e di Fukushima, hanno creato, nell'opinione pubblica, qualche dubbio. Sicuramente l'industria francese deve molto all'energia nucleare, ovviamente perché abbassa i prezzi di produzione dell'energia, e perché consente di avere una quantità di energia costante nel tempo. Sicuramente però i problemi sono ancora aperti, soprattutto per ciò che riguarda le scorie radioattive che vengono prodotte, ovviamente, da queste centrali nucleari. Un terzo settore molto forte caratterizza la Francia, e vorrei parlarvi in particolare di uno dei settori trainanti dell'economia francese, che è il turismo. Abbiamo visto nella scorsa lezione che la parte sud della Francia, ad esempio, presenta delle coste che sono molto, molto interessanti dal punto di vista turistico. Tutti conosciamo in questa zona, o almeno abbiamo sentito parlare, delle località quali Nizza, Monte Carlo, San Trope, che nel corso degli ultimi decenni hanno avuto un turismo, un turismo particolare. sono località spesso considerate esclusive, in cui appunto ci sono spiagge, in cui ci sono stabilimenti, in cui ci sono hotel, e in questa zona proprio meridionale della costa francese ha sede il Principato di Monaco o Monte Carlo. Tutti voi sapete che alla fine più o meno del mese di maggio c'è il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 ed ecco che lì in questo piccolissimo Principato hanno sede numerose attività e in particolare attività con riferimenti e con contatti nell'ambito immobiliare. Ovviamente garantisce una tassazione particolare per cui è considerato un luogo particolarmente attrattivo per una serie di attività da svolgere. È sicuramente un Principato molto ricco esclusivo che viene raggiunto da investitori provenienti da tutto il mondo. Molto diversa è la situazione della costa atlantica e in particolare della costa settentrionale della Francia. qui non ci sono o meglio ci sono meno attrattive dal punto di vista prettamente balneare ovviamente il clima come abbiamo visto è diverso da quello caldo mediterraneo del sud però ed è questo interessante c'è lo stesso un forte turismo legato soprattutto ai luoghi religiosi ci sono nella zona settentrionale della Francia delle bellissime cattedrali gotiche medievali e rinascimentali ci sono in particolare nella zona della Bretagna che è questo sperone di territorio francese che si proietta sull'oceano delle zone naturalistiche stupende delle scogliere sul mare delle spiagge anche che vengono raggiunte dai turisti ed è soprattutto la parte naturalistica ad attirare i turisti nella regione invece della Normandia che è famosa per avere per essere stato il teatro dello sbarco in Normandia nel giugno del 1944 ecco abbiamo una costa alta una costa molto frastagliata caratterizzata da alcune spiagge appunto la spiaggia che è stato teatro dello sbarco in Normandia che è visitabile tuttora e che attorno ha tutta una serie di fortificazioni ancora visitabili che ricordano appunto il sacrificio dei soldati per la liberazione della Francia sempre in questa zona della Normandia sono famosi i cimiteri sia britannici che statunitensi che tedeschi che testimoniano delle migliaia di morti che ci sono stati nell'arco di poche settimane appunto dopo il 6 giugno del 1944 abbiamo parlato relativamente al turismo dell'interesse che c'è per la Loira con i suoi castelli quindi un fiume navigabile assolutamente attrattivo dal punto di vista turistico per i suoi castelli di cui abbiamo accennato la scorsa la scorsa volta e sicuramente l'altro grossissimo riferimento per quanto riguarda il turismo francese è ovviamente la capitale Parigi con i suoi monumenti con la sua storia con i milioni di turisti che ogni anno la raggiungono appunto per visitare tutte le attrattive che andremo a vedere poi quando faremo il lavoro sulle capitali europee nell'ultima parte dell'anno scolastico e Parigi per darvi un'idea ospita uno dei musei diciamo più importanti del pianeta il Louvre e pensate sono dati di un paio di anni fa però comunque sono in continua crescita il Louvre ospita all'anno circa 10 milioni di visitatori per cui immaginate con una media di biglietto che si aggira attorno ai 10 o 15 euro dipende dalle riduzioni e dalle varie situazioni specifiche però vi rendete conto che il Louvre stesso è un'azienda è un'azienda che porta sicuramente grossi utili allo stato francese abbiamo parlato quindi di settore primario di agricoltura di allevamento abbiamo parlato del settore secondario con le industrie in particolare industria aerospaziale abbiamo parlato di settore terziario con il traino che è sicuramente dato dal turismo oltre che ad altro un altro settore molto importante che è la finanza e la pubblica amministrazione la Francia è famosa per una pubblica amministrazione particolarmente attenta e funzionante per rendere quanto più snello ed efficace il sistema produttivo e il sistema paese quindi sicuramente queste sono le attività principali un'ultima attività che rientra nel settore terziario ma che diciamo aiuta tutti gli altri settori e in particolare il turismo è quello dei trasporti che sono riconosciuti molto efficienti soprattutto e già da qualche decennio il settore del trasporto ferroviario tutti abbiamo sentito parlare della linea Torino-Lione appunto abbiamo visto la città di Lione come una delle città fondamentali della Francia e dobbiamo renderci conto che l'intera Francia è attraversata da una linea molto efficiente di alta velocità che trasporta passeggeri in tutta in tutto il territorio francese e che ha ovviamente come centro la città di Parigi ovviamente abbiamo parlato di industria aerospaziale abbiamo parlato di Airbus dobbiamo fare un accenno sicuramente ai trasporti aerei che consentono attraverso la compagna di bandiera proprio di avere dei collegamenti continui con tutte le zone del mondo in particolare dagli aeroporti parigini dobbiamo renderci conto che infatti il territorio francese non si limita solo alla parte continentale alla parte europea però diciamo che ha delle propagini che sono molto distanti sono territori francesi la Martinique sono territori francesi la Guadalupe che si trovano diciamo nel mar dei Caraibi e che sono a tutti gli effetti territori francesi sono raggiungibili attraverso voli continui e quindi hanno i cittadini di queste zone abbastanza remote rispetto alla zona continentale hanno servizi simili ai cittadini francesi quindi a livello burocratico e hanno collegamenti continui con il continente io direi che mi avvio alla conclusione segnalandovi solamente un un importante particolare che vi invito a segnare anche sulla vostra mappa ed è una città che si trova in questa posizione qui e che ha un ruolo importantissimo a livello proprio europeo non solo francese ma anche a livello europeo che è la città di Strasburgo la città di Strasburgo come sapete come abbiamo come avete visto all'inizio dell'anno ospita la sede del Parlamento europeo per cui anche a livello prettamente politico istituzionale la Francia ha questa sede molto importante e che la rende dal punto di vista politico uno dei paesi fondamentali dell'Unione europea e tutt'oggi l'asse franco tedesco costituisce probabilmente come abbiamo visto come abbiamo detto più volte in classe durante le vostre efficacissime presentazioni che abbiamo visto appunto in classe costituisce l'asse di riferimento per quanto riguarda la politica e le istituzioni europee ci avviamo quindi alla conclusione della lezione di oggi vi do qualche riferimento tecnico relativo ai compiti per casa ovviamente seconda H e seconda E hanno dei libri di testo come ho detto prima diversi per cui darò qui sotto in descrizione al video i riferimenti ai due testi divisi per le due classi vi invito a continuare a realizzare appunto queste mappe e vi invito a qualora ci fossero dubbi difficoltà domande quesiti a scrivermi vi lascerò all'interno del registro elettronico la mia email a cui rispondo non vi chiedo per ora ringrazio chi l'ha fatto perché ho apprezzato molto chi mi ha inviato già le prime mappe i primi disegni e lo ringrazio li ringrazio veramente molto non vi richiedo per questa settimana nessuna verifica in questo senso per le prossime settimane mi organizzerò e vi chiederò ovviamente di inviarmi via email i disegni e per verificare appunto il lavoro il lavoro di tutti nel frattempo però non preoccupatevi utilizzate l'email per quelli che sono i dubbi o per comunicarmi delle informazioni che vi che vi servono vi ringrazio per l'attenzione per la seconda e ricordo che i video di geografia verranno postati verranno pubblicati il martedì e il giovedì indicativamente nella tarda mattinata in modo che abbiate tutto il tempo per lavorare poi in autonomia quindi ci vediamo martedì prossimo con un altro argomento e nel frattempo vi auguro una buonissima giornata e vi ricordo di seguire le direttive per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in questo periodo quindi non uscite mi raccomando e cercate di ridurre al minimo quelli che sono i contatti è importantissimo questa battaglia va vinta e la vinceremo però con il rispetto e con l'azione responsabile da parte di tutti vi ringrazio ancora per l'attenzione vi auguro una buona continuazione e ci vediamo martedì con la prossima lezione di geografia un caro saluto a tutti e ci vediamo